Tutti mi ricordano quella esperienza che è stata fantastica, riuscire con questa grande squadra ad andare a Napoli e vincere in casa loro, pur avendo alla fine quella piccola emozione di 5-6 minuti dopo il gol loro, eravamo tutti un po' minimamente spaventati, però ci hanno applaudito alla fine qualcuno con fatica, ma ci hanno applaudito. Devo dire che facciamo una partita fantastica contro un grande Napoli che non voleva mollare. Mi rende conto di giocare in una squadra forte con giocatori incredibili, io poi venivo dal settore giovanile e trovarmi a fianco di questi grandi campioni era davvero un sogno che diventava realtà perché il Milan tornava a vincere la Coppa dei Campioni. Negli anni, quando si invecchia in me, cominci davvero a comprendere fino in fondo quello che è stato e quello che è stato fatto.